Nel quadro del centenario per la fine del primo conflitto mondiale, il Museo Imperiale della Guerra di Londra ha chiesto al regista Peter Jackson di realizzare un documentario usando immagini d'epoca colorate elettronicamente. 600 ore di girato e 4 anni di lavoro per un film di 90 minuti che restituisce ambientazioni mai viste. La guerra era a colori, la vedevano ovviamente così, non in bianco e nero. Oltre a trattare le immagini con le tecnologie più avanzate, Jackson ha fatto ricostruire i dialoghi partendo dalla lettura dell'abbiale dei soldati, integrata con decine di interviste storiche a protagonisti del primo conflitto mondiale. Il risultato è stupefacente, le immagini rimettono al centro degli avvenimenti storici i singoli individui. Non è la storia di una guerra, ma la storia di una esperienza umana nella guerra. Una esperienza imposta a milioni di persone, sei nella sola Gran Bretagna. Più di 700.000 di loro morirono in battaglia o di malattia e a loro il film di Jackson restituisce la parola. Ascoltare le loro voci, sentire le loro parole, capire quello che provavano è qualcosa che effettivamente torna ad avere una vita. Domenica saranno 100 anni dalla fine del conflitto, una giornata per ricordare l'enorme sacrificio umano e la fragile natura della pace.